Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli di questa puntata. Approvazione dello Statuto della Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini. Progetti per promuovere la lettura, risoluzione unanime. Dichiarazioni di Matteo Renzi in Arabia Saudita, mozione invita il Presidente e la Giunta regionale a prendere le distanze. Ha fatto bene il Consiglio regionale a deliberare all'epoca la destinazione di alcune risorse per la creazione e la costituzione di una scuola di formazione. Io vengo da un partito politico che faceva della formazione un punto di orgoglio. Significa intanto questo che troppi molti anni che sono in politica, ma questo lo dico io e lo lascio dire agli altri. Troppo spesso in questi ultimi anni, secondo me, abbiamo assistito a un'improvvisazione che non fa bene alla politica. perché troppo spesso gli strafalcioni che noi sentiamo alle televisioni, leggiamo sui giornali, non sono frutto di una no scolarizzazione di chi va lì, di chi va a governare il Paese, di chi va nei consigli regionali, nei consigli comunali piuttosto che... Io sono convinta che bisogna avere una cultura di base, la conoscenza da dove veniamo per sapere dove dobbiamo andare. Troppo spesso arrivano direttamente in Parlamento senza nessuna formazione. Io vi garantisco che essendo stata partita da un consiglio di circoscrizione della mia città, hai la percezione, cioè arrivi più in alto, non essendo in una bolla, no? Non conosci il mondo, non conosci non solo come funziona un procedimento amministrativo piuttosto che legislativo, ma sei lontano dai problemi della gente. Cioè la formazione, la scuola di politica, oltre che creare una cultura politica, che significa capire la genesi di dove siamo, dove siamo arrivati, cosa è successo nel nostro Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè non è tutto improvvisato. Quindi non solo una cultura scolastica, ma una cultura politica per leggere le nozioni che abbiamo appreso a scuola sotto una luce diversa, che è una luce della gestione della polis, che è un'altra cosa. Ci sono delle posizioni diverse e a volte contrastanti per quanto riguarda appunto la scuola di formazione politica. Lo strumento della fondazione è uno dei possibili strumenti in questa direzione. Noi abbiamo votato contro la legge che istituiva la scuola di formazione. Ora si tratta di votare un atto di natura precipuamente tecnica, che è lo statuto, per il quale però abbiamo tutta una serie di perplessità, abbiamo richiesto chiarimenti agli uffici e stiamo aspettando per poter formulare in modo più compiuto il nostro voto. Per quanto riguarda la perplessità, una sicuramente di carattere generale, ma che stiamo portando avanti ormai dalla scorsa consigliatura, che è la perplessità dovuta alla fretta, ma qua appunto si sta procedendo. Ecco perché abbiamo chiesto un rinvio. Noi infatti abbiamo presentato già un ordine del giorno per chiedere che si evitino sovrapposizioni con la scuola di formazione dell'ANCI. Ma ci sono anche tutta una serie di quanto riguarda l'età dei partecipanti, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, abbiamo diverse perplessità. Cerchiamo di vederci più chiaro e sarà l'occasione del prossimo Consiglio regionale quella che dovrà veramente dire quali saranno le posizioni in campo. La nostra posizione è chiarissima. Come Forza Italia fin dall'istituzione di questa legge che prevede la scuola di formazione politica abbiamo detto di dare 100.000 euro in un momento difficile come questo per imprese e per famiglie ad una fondazione che deve formare i politici è estremamente assurdo. Per noi la formazione politica è quella che fai sul campo. Fai il consigliere di quartiere, parli con le persone, fai il consigliere comunale, stai a giro, produci atti, stai al fianco di chi l'attività politica la fa ogni giorno. Questa è la formazione politica. Non occorre per noi fare una fondazione, mettere 100.000 euro, magari assumere un direttore generale, un revisore dei conti, alcuni dipendenti per fare formazione politica. La formazione politica la si fa sul campo e soprattutto in un momento difficile come questo non si possono mettere 100.000 euro per costituire una nuova fondazione. È assolutamente illogico, per noi anche inspiegabile ai cittadini. Ecco perché ci siamo opposti dall'inizio, ecco perché abbiamo chiesto un rinvio al prossimo Consiglio regionale. Il principio a noi convince, cioè la necessità che la regione toscana investa per formare anche gli amministratori del territorio. Quindi a noi piace il principio per il quale un giovane che si avvicina alla politica e che si trova a amministrare abbia una guida, abbia una formazione, abbia un'istruzione. Ci sono degli aspetti che invece convincono un po' meno, ecco perché ancora non è arrivata in porto la nascita della scuola. Tra questi ci sono sicuramente l'assunzione del personale, vogliamo capire se questa scuola ha dei costi o no perché oggi è impensabile dover ricadere sulle spalle dei cittadini per formare gli amministratori che dovrebbero amministrare i cittadini. Un altro aspetto che ci convince poco è il mancato coinvolgimento per esempio delle università. In Toscana abbiamo tre università di eccellenza che a nostro modo di vedere potrebbero contribuire alla formazione di questi futuri amministratori. Il principio per il quale l'amministrazione forma anche gli amministratori invece ci piace quindi speriamo di poter arrivare presto a un soggetto che non ha costi ma che ha dei benefici per i cittadini. Noi crediamo che l'idea che la Regione Toscana debba istituire una scuola politica sia fuori contesto in questo momento storico e soprattutto non opportuna. Le scuole di politica si fanno all'interno delle comunità un tempo si facevano nell'associazionismo, tutt'oggi si fanno ancora all'interno dei gruppi politici e noi stessi facciamo questo tipo di scuola ma non certo a carico della collettività e questo secondo me è fondamentale. Il fatto che sia indirizzata poi soltanto ai giovani lo limita ulteriormente però secondo me è proprio sbagliato concettualmente e fuori tempo data la contingenza, la situazione di emergenza in cui stiamo vivendo. L'Aula ieri ha approvato una proposta di risoluzione importante e diciamo con misure strutturali che invita a misure strutturali per stringere sempre di più il rapporto tra governo della cultura e proposta culturale del territorio e vita scolastica e attività didattica. Due i settori di intervento, la lettura e la frequentazione dei luoghi e delle istituzioni museali e culturali in genere. Sulla lettura si propone e si impegna la Giunta a estendere e promuovere il progetto Leggere Forte, già attivo, che riguarda la lettura ad alta voce a bambini fin dall'età più piccola perché è un progetto che è dimostrato scientificamente, favorisce lo sviluppo delle facoltà cognitive e poi si propone di introdurre analogamente a quanto accade in molti paesi del nord Europa, ad esempio, la mezz'ora di lettura silenziosa in avvio della giornata scolastica, questo per i ragazzi più grandi che sono in grado di condurre una lettura individuale e privata di loro libri. Questo per portare la lettura individuale ad avere cittadinanza piena nella pratica, nell'abitudine di comportamento della frequenza dello spazio scolastico, promuovendo in questo modo appunto la lettura in generale. La mozione poi aveva un contenuto riguardante lo svolgimento delle lezioni che hanno un contenuto più legato alla storia dell'arte, alla storia culturale dei territori, promuovendo, invitando le scuole a promuovere iniziative che facciano svolgere quelle lezioni in contesti diversi dalle aule, in musei, in teatri, in luoghi monumentali. Questo perché può consentire anche di affrontare meglio questo tempo di pandemia qualora per fortuna si potesse continuare ad avere la didattica in presenza e qualora disporre di spazi alternativi in cui appunto stare più distanziati e poter fare lezioni che hanno nel contesto maggiore fonte di ispirazione, secondo noi potrebbe essere un buon modo per fare meglio scuola ma anche per affrontare meglio questo frangente difficile della scuola in tempo di pandemia. È stata una proposta che è partita da varie audizioni con persone che già avevano messo in atto il progetto leggere forte, è stata discussa in commissione, sono state apportate delle modifiche migliorative tra cui quella che ha fatto la Presidente Giacchi di portare anche gli studenti nei musei a fare lezione perlomeno di storia dell'arte. In più io avevo proposto ed è stato accettato di fare entrare nelle scuole associazioni, persone dello spettacolo del territorio per poter dare un contributo proprio a leggere forte. Il problema scuole e musei ancora sono purtroppo in difficoltà. Io sono dell'avviso che la scuola andrebbe tenuta sempre aperta anche in zona rossa facendo dovuti screening e le dovute sicurezze ma la scuola non va chiusa. La mozione voleva prendere le distanze dalle frasi veramente imbarazzanti pronunciate dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi in una trasmissione tv in Arabia Saudita nei confronti del principe Mohammed bin Salman che ricordiamo a tutti è stato lodato non solo come suo amico personale ma anche come principe illuminato rappresentante di un rinascimento dell'Arabia Saudita rinascimento di cui non si ha traccia non solo perché l'Arabia Saudita è uno dei regimi dittatoriali più sanguinari del mondo dove i dissidenti vengono uccisi e fatti a pezzi. Non ultimo il giornalista a caso oggi nell'ambasciata di Istanbul di cui abbiamo avuto i primi particolari raccapriccianti per la freddezza e veramente la mancanza di minimo rispetto della persona umana ma anche per come vengono violati da secoli i diritti delle donne sottoposte a un regime che è quello del guardiano per cui non possono godere dei diritti civili e della piena autodeterminazione ma anche le frasi riguardo al costo del lavoro al basso costo del lavoro e ricordiamo che la vige un sistema semischiavistico a cui sono sottoposti 11 milioni di lavoratori ecco queste frasi a nostro avviso sono inaccettabili soprattutto per chi è stato il rappresentante del principale partito di sinistra il PD per cui sinceramente fa piacere che oggi anche parte del partito democratico abbia proposto degli emendamenti che ho accettato e abbia ritrovato quell'essenza fondamentale quella base che ci vede uniti in questo e cioè nel rispetto dei diritti umani ovunque siano e da parte di chiunque li professi il nostro spirito non è mai di fare documenti contro qualcuno per l'amor di dio ci sono degli atti che vengono presentati all'attenzione del consiglio regionale e con responsabilità noi cerchiamo di analizzarli entrando cercando di entrare nel merito lasciando fuori poi anche valutazioni che possono accompagnare alcune riflessioni che sono patrimonio magari di gruppi che presentano questi atti noi abbiamo cercato anche con una serie di emendamenti non dico di migliorare però di andare a cercare di portare un contributo su un atto che poi avete visto è stato approvato a maggioranza dall'aula ora sull'esatta diciamo ricostruzione del voto in aula bisognerebbe vedere i tabulati ma soprattutto anche le ragioni per cui una persona o non ha partecipato al voto oppure non ha avuto la possibilità di farlo mi pare che però l'espressione di voto se vogliamo parlare del partito democratico sia stata espressa in maniera molto chiara dal capogruppo vincenzo ceccarelli abbiamo fatto riferimento a questo nuovo decreto legge dei sostegni dove purtroppo c'è una mancanza all'interno di questo decreto che penalizza molto le associazioni sportive dilettantistiche e che cosa a cosa mi riferisco mi riferisco al fatto che viene considerato come ristoro come sostegno soltanto i mancati ricavi commerciali e non vengono inserite invece le attività istituzionali cioè quello che è praticamente un abbonamento che è un una persona paga all'interno di una palestra o di una piscina ecco quello non viene considerato ecco e credo che questa mozione che ha trovato appunto la condivisione di tutti i gruppi politici vada in questa direzione che il nostro presidente gianni porti avanti questa battaglia a nome di tutta la regione perché credo che sia giusto visto e considerato quanto queste società sportive soprattutto le dilettantistiche siano state penalizzate in questo in questo da questa pandemia ed è tutto questa era la nostra ultima intervista l'appuntamento con cronache e commenti torna la prossima settimana Grazie a tutti